Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione del Tg10, pagina sindacale in apertura del telegiornale. Ci occupiamo dell'accordo siglato ieri all'assessorato regionale al lavoro, cassa integrazione destinata a 600 lavoratori dell'indotto dello stabilimento Eni di Gela. Questo accordo che interessa anche Termini Imerese, dice il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta, mostra concretamente l'atteggiamento del governo regionale nei confronti delle due aree di crisi complessa della Sicilia. Accordo siglato per la cassa integrazione destinata a 600 lavoratori dell'indotto dello stabilimento Eni di Gela. La firma è stata posta ieri all'assessorato regionale al lavoro. Questo accordo, che interessa anche Termini Imerese, dice il presidente della regione Rosario Crocetta, mostra concretamente l'atteggiamento del governo regionale nei confronti delle due aree di crisi complessa della Sicilia. Avevamo preso questo impegno con i sindacati e lo abbiamo mantenuto. È chiaro che nei momenti in cui ci stiamo impegnando per sbloccare le autorizzazioni a livello nazionale e fare fare gli investimenti, è giusto che in questa fase ci siano provvedimenti di transizione che diano respiro ai lavoratori e possono permettere loro di tirare avanti. Perché non è che i processi di riconversione hanno bisogno sempre dei tempi. La regione ha detto che la cassa integrazione ci sarebbe stata, nonostante una serie di problemi nazionali che abbiamo avuto, però alla fine la regione con i propri fronti ha garantito ai lavoratori di Gela e di un'altra area di crisi che è quella dei Termini Imerese, dove anche lì nascono gli spiragli nuovi della possibilità di fare l'auto elettrica e quindi anche lì l'industria pulita di risolvere le questioni. Presidente, ma quando realmente partiranno i cantieri allo stabilimento in merito alla riconversione green? Noi siamo in dirittura d'arrivo sulla questione dell'ISA, è ovvio che in questa fase la vicenda del referendum sulle pribellazioni crea qualche problema agli investimenti dell'Eni, non ce lo nascontiamo. Anche se lei ne devo dire, nonostante l'incertezza abbia praticamente proseguito a fare gli investimenti su Gela. Io spero di fare a giorni un punto proprio sulla situazione del piano di investimenti di Gela, però sta da sé che la situazione generale di incertezza non rende sicuramente facile la situazione, però gli investimenti a Gela ci faranno, la riconversione green della raffineria ci sarà e ci saranno anche una serie di investimenti che la regione farà sul territorio per riqualificare la città che stiamo mettendo proprio nel patto per lo sviluppo da fare con il governo, che prevedono privilegiate in modo forte le due aree di crisi regionali, in termini di merese di Gela, con investimenti che non sono solo di tipo industriale, ma vanno verso l'incoltura, verso la questione delle idiche, ma vanno anche verso la questione della riqualificazione urbana. Un pregiudicato gelese di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri e posto ai domiciliari per aver violato gli obblighi imposti dalla magistratura. Si tratta di Filippo Russotto. Durante il servizio dedicato al controllo dei soggetti sottoposti agli arresti domiciliari, i militari hanno sorpreso l'uomo mentre tornava a casa a bordo di una Land Rover fuori dagli orari previsti dall'ordinanza emessa a suo carico, violando così le prescrizioni previste per la detenzione domiciliare. Sarà adesso il processo per direttissima a stabilire se dovrà espiare la pena ancora ai domiciliari oppure in carcere. Adesso parliamo della riunione che si è svolta a Gela da parte dei rappresentanti del Comitato NOPEOS. Vediamo. Contrastare la realizzazione del parco eolico di 38 pali che raggiungono un'altezza di quasi 160 metri a due miglia dalla spiaggia antistante il castello di Falconara proposto dalla Mediterranea Wind Offshore di La Spezia. Il 13 aprile prossimo a Roma presso il Tribunale Amministrativo Regionale è prevista l'udienza che dibatterà il ricorso presentato dal coordinamento NOPEOS, formato dai comuni di Gela, Butera, Licata, Palma di Montechiaro e Agrigento. Ieri incontro presso il Dipartimento Urbanistico a Gela. Le altre attività che stiamo avviando a sviluppo possono trovare un intoppo dal punto di vista proprio promozionale e pratico con questa realizzazione. Questa realizzazione che non si fermerebbe a Gela naturalmente ma è una progressione nell'area più pregiata della costa sud-occidentale dell'isola e questo non lo possiamo assolutamente permettere. Questo andrebbe a intaccare l'economia, non solo l'economia del paese, l'economia che riguarda la pesca, che riguarda i reperti archeologici che sono stati ritrovati tra il mare di Gela e quello di Licata. In virtù anche del fatto che questo parco eolico non abbiamo trovato nulla che possa portare vantaggio per il nostro territorio e per le nostre coste. Auspico una maggiore partecipazione da parte di tutti i comuni, gli enti, ma soprattutto del Presidente della Regione, ad oggi assente in tutti gli incontri e anche in tutte le nostre sollecitazioni. Non possiamo noi come comitati che lottiamo da otto anni contro questa speculazione, non possiamo che ringraziare i comuni di Licata e Gela e purtroppo rammaricarci per l'assenza di tutti gli altri. Cercheremo sempre di pungolare quelle amministrazioni che sono nella sostanza coinvolte ma che ideologicamente sembrerebbe essere poco interessati e siamo fiduciosi che, stante la gravità del fenomeno e stante anche l'importanza dello sviluppo turistico che le nostre aree intendono svolgere nel prossimo futuro, si possa con sinergia affrontare queste battaglie e cercare di, quanto minimo, avere più chiarezza. Per il Comitato Nopeos il parco eolico devasterebbe fondali ricchi di reperti archeologici e non solo, ma creerebbe enormi problemi al transito di Avifa una migratoria. Consentire la realizzazione di un parco del genere significa veramente devastare tutta la costa che arriva da Gela fino ad Agrigento. Quindi è una battaglia anche veramente di civiltà importante che stiamo conducendo tutti con il massimo impegno. Il giorno 13 dovrebbe chiudersi la fase innanzi al Tar Lazio, dovrebbe perché mettiamo sempre il punto interrogativo perché ci sono stati diversi rinvii fino ad oggi e quindi vedremo il Tar cosa deciderà. Farà tappa a Gela la terza edizione di Una vita da social con Angelo Russo, Catarella, testimonial d'eccezione, appuntamento previsto per domani in Piazza Umberto I. Si tratta di una campagna educativa itinerante sui temi dei social network, del cyberbullismo, dell'adescamento online e sull'importanza della sicurezza e della privacy. In piazza ci sarà il track della Polizia Postale. Nel corso delle due edizioni precedenti ha raccolto un grande consenso. Gli operatori della Polizia Postale delle Comunicazioni hanno incontrato circa 150.000 studenti nelle piazze e 800.000 nelle scuole, 25.000 genitori, 10.800 insegnanti per un totale di 2.800 istituti scolastici, 18.000 chilometri percorsi e oltre 130 città raggiunte sul territorio. All'evento di domani parteciperà nel questore di Caltanissetta, Bruno Megale e il procuratore della Repubblica di Gela, Lucia Lotti. Magistrati, avvocati, personale giudiziario e sindacati a raccolta per discutere sul paventato rischio di soppressione della Corte d'Appello di Caltanissetta. Un'assemblea sindacale nell'aulamagna del Palazzo di Giustizia intitolata ai giudici Saette e Livatino per individuare e quindi proporre soluzioni più adeguate a quelle presenti nella bozza di relazione della Commissione di studio istituita il 12 agosto del 2015 dal Ministero della Giustizia preseduto dall'onorevole Michele Vietti che si propone di ridurre il numero dei distretti della Corte d'Appello in tutto il Paese. Una ridefinizione, quella della geografia giudiziaria alla quale i giudisti nisseni sono contrari. La bozza parla di una Corte d'Appello che deve avere almeno un milione di abitanti, preferibilmente una per regione, sì. La nostra regione è una regione particolare di oltre 5 milioni di abitanti e Caltanissetta ha delle sue peculiarità. Intanto per Caltanissetta è già stato presentato un progetto di legge che prevede l'allargamento del suo territorio e quindi del numero di abitanti, tanto assicurare gli 800.000 abitanti e questo è un primo punto. Seconda cosa, nella bozza di relazione ci sono delle eccezioni, e cioè le infrastrutture, tutti gli investimenti che qui a Caltanissetta sono stati fatti, che continuano a farsi, che già si trovano sul territorio e non possono essere spostate in altre parti del territorio stesso e poi l'impatto alla criminalità organizzata. La situazione della Sicilia richiede la presenza di una Corte d'Appello al centro della Sicilia. La Corte d'Appello di Caltanissetta vanta una tradizione nelle indagini sull'articolo 11 del Codice di Procedura Penale, mi riferisco alle indagini sulle stragi, alle recentissime indagini che hanno riguardato anche aspetti delicatissimi dell'esercizio della giuriduzione a Palermo, che sono una dimostrazione dell'importanza dell'esercizio della giuriduzione da parte di questa Corte. Abbiamo anche messo in rilievo che l'indice di criminalità sul territorio del distretto del Vallone, di Gela e quindi del distretto di Caltanissetta è perfino più elevato in termini percentuali di quello dei distretti di Catania e di Palermo. In efficienza operativa, ritardi nell'erogazione del servizio, nonché nella durata dei processi civili e penali, perdita dei posti di lavoro, sono alcune delle conseguenze che potrebbero verificarsi qualora la Corte d'Appello di Caltanissetta venisse soppressa. Entro il prossimo 2 maggio le famiglie residenti a Gela che ne posseggono i requisiti possono presentare al Comune la richiesta per ottenere l'assegno civico rivolto ai soggetti in difficoltà economica e sociale. Lo ha reso noto l'assessore comunale Servizi Sociali, Licia Abela. La domanda va presentata al protocollo generale o con una raccomandata con ricevuta di ritorno. Hanno diritto all'assegno civico i cittadini italiani comunitari o extracomunitari tra 18 e 64 anni di età residenti da almeno un anno a Gela, iscritti all'ufficio del lavoro senza patologie o condizioni di salute che ostano allo svolgimento delle attività previste con un reddito complessivo familiare percepito nel 2015 inferiore al minimo vitale, privi di altri contributi o provvidenze che garantiscano la condizione precedente. Agli extracomunitari infine si richiede la regolarità della carta di soggiorno. Arduino Day a Gela, c'eravamo anche noi, vediamo. In contemporanea con altre 360 città del mondo si è svolto anche a Gela l'Arduino Day in Sicilia, fatto tappa anche a Palermo. Il progetto è stato promosso da ShipLab. L'importanza della scheda elettronica Arduino consiste nel fatto di avere generato un ecosistema che ha reso relativamente semplice ed economico creare nuovi oggetti digitali che prima potevano essere progettati e realizzati solo nei comparti di ricerca e sviluppo aziendali. La platea è stata composta da ragazzi delle scuole medie, quindi le nuove eleve, le ragazzi che in futuro sceglieranno magari di applicarsi su queste tematiche, quindi il futuro, anche perché le nuove direttive del MIUR sono proprio queste, quelle di formare già i ragazzi in questa età alle tecnologie che adesso sono le più importanti a livello mondiale. L'innovazione può essere fatta anche a Gela e soprattutto a Gela. Abbiamo invitato i studenti del Morselli che sono campioni italiani per quanto riguarda i robot, abbiamo invitato tutte le scolaresche per quanto riguarda gli istituti comprensivi, medie ed elementare e abbiamo fatto toccare con mano come realizzare piccoli oggetti, anche perché vogliamo invogliare le scuole a partecipare ai vari bandi che il MIUR sta mettendo loro a disposizione e sta mettendo dei fondi per poter realizzare dei piccoli laboratori, degli atelier, dove i ragazzi già a 11-12 anni possono realizzare oggetti. Durante l'evento si è parlato anche di robotica, stampanti 3D, internet, all things e domotica. È stata un'occasione imperdibile per tutti gli amanti della scheda, ma anche una chance per coloro che hanno sempre voluto capirne qualcosa in più, ma non si sono mai avvicinati. Noi speriamo che possa essere la via per fare qualcosa di diverso, non rimanere nell'industria della chimica, anche perché lo sappiamo tutti, sta morendo se addirittura non è già morta. Quindi la soluzione che stiamo proponendo noi è di fare qualcosa che la città non ha mai visto e ci stiamo provando e sempre più persone aderiscono alle nostre iniziative. I ragazzi hanno l'opportunità di poter essere pronti per uno sviluppo lavorativo diverso da quello, soprattutto nel nostro territorio, la chimica, la raffineria che ormai ha chiuso il suo ciclo vitale. L'esperienza di oggi permette soprattutto di avere un rendamento per il futuro, per capire cosa andare a fare negli anni successivi, negli anni a venire, quindi capire anche le proprie passioni e comprendere che tutto ciò che noi possiamo fare dipende dalla nostra volontà e dalla nostra voglia di fare. È stata la scala di Santa Maria del Monte a Caltagirone ad ospitare l'evento Sei un tipo? Dimostralo, vieni a tipizzarti. Una giornata di sensibilizzazione organizzata in collaborazione con l'ADMO, sezione di Gela preseduta da Giacomo Giurato, l'azienda ospedaliera di Caltanissette, il polo di reclutamento donatori di midollo osseo, il comitato locale di Caltagirone della Croce Rossa, l'Avis di Caltagirone e il comune. L'iniziativa è stata organizzata per fornire una corretta informazione sulla donazione di midollo osseo e cellule staminali che permette grazie ad un semplice prelievo di sangue di essere inseriti nella banca dati nel registro nazionale donatori di midollo osseo, cellule staminali. L'opportunità viene offerta a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni in buone condizioni generali di salute allo scopo di continuare a incrementare il registro e a rinnovarlo. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale che apriamo con la consegna di tre vetrine regalate dal Chivanis al Museo Archeologico Regionale di Gela. Vediamo. Valorizzare il patrimonio storico ed archeologico attraverso la donazione di tre vetrine al Museo di Gela. Questo diranno reperti che attualmente non riescono a trovare spazio. È l'obiettivo del Chivanis Club. In occasione del One Day Chivanis si è svolta una interessante iniziativa con la partecipazione anche delle mini guide della scuola Luigi Capuana, diretta da Cetta Mongelli. Il museo chiaramente rappresenta un punto cardine del turismo che deve venire e che c'è quando a Gela. Valorizzare il museo e soprattutto valorizzare i reperti che sono nascosti. Voi considerate che ci sono più di 4.000 reperti che sono messi nel sottorragno del museo e che attendono di essere esposti. Quindi iniziare con la donazione di delle vetrine per cercare di esporre questi reperti ci sembrava più che logico e sociale da parte del Chivanis. Saranno delle vetrine complementari a quelle che abbiamo per esporre quel materiale che purtroppo non possono essere esposte per problematiche diverse, per logiche diverse che non fanno parte del percorso o che si vogliono mettere in esposizione quelle che purtroppo sono conservate e non possono essere esposte. Conoscere, amare e valorizzare il patrimonio archeologico e storico di Gela partendo proprio dai più piccoli. E' stato facile fare la miniguida? Ci vuole tanto studio, impegno, costanza. Nonostante sia poco valorizzato è piena di reperti che dovrebbero essere più considerati secondo me. Ogni anno tutte le classi quinte, tutti e 100, 125 bambini vengono preparati in questo itinerario didattico che coinvolge lo studio dei reperti archeologici presenti nelle vetrine nel ricchissimo nostro museo. E loro spiegano la ceramica, i miti rappresentati e tutto il resto. Durante l'iniziativa erano presenti anche gli alunni del liceo artistico. Abbiamo avuto l'occasione di poter approfondire il nostro studio e le nostre conoscenze sulla storia, grazie soprattutto al contatto con le fonti dirette. Anch'io che facevo parte delle miniguide ho avuto l'occasione di rivivere tutta questa situazione che è piacevole. Questa giornata è molto interessante perché ci permette di riscoprire il nostro passato che ancora oggi vive nel presente. L'interpretazione di tali fonti fa comprendere il modus operandi dello storico, fatto di ricerca, analisi e interpretazione delle fonti, nonché la riscoperta delle radici del passato. Un book fotografico per raccontare 20 anni di musica dell'Associazione Culturale Giuseppe Verdi preseduta da Salvatore Domicoli. L'iniziativa si terrà venerdì 8 aprile alle 18.30 nella Casa del Volontariato di Via Ossidiana, prevista anche un'esibizione musicale. Sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana numero 20 dell'11 marzo scorso, quarta serie speciale, è stato pubblicato il bando di concorso per titoli ed esami per l'ammissione di 605 allievi marescialli all'ottantottesimo corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza per l'anno accademico 2016-2017. La presentazione delle domande dovrà avvenire entro l'11 aprile prossimo. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito www.gdf.gov.it, area concorsi online, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando. L'Istituto Penale Minorile apre le sue porte ai ragazzi della Scuola Superiore Virgilio di Mussomeli per un incontro e poi un momento di scambio e di interazione tra la realtà vissuta all'interno della struttura che ospita i minorenni e gli studenti. Nessuna differenza tra chi deve pagare le proprie colpe e chi invece trascorre la propria vita tra i banchi di scuola, le mura domestiche e qualche giro in motorino, ma ha soltanto tanti sogni e speranze da condividere e raccontare. Prodotti tipici locali, conserve e disegni sono stati alcuni dei regali che i 15 studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore diretto da Caloggio e Ragenco hanno donato ai ragazzi ospiti dell'Istituto Penale Minorile. Conoscere quello che si può vivere con la privazione della libertà, con degli errori che sono stati commessi o situazioni anche di degrado socio-culturale, è importante per un ragazzo che spesso in questa fase della propria vita trascura il senso di responsabilità o non ce l'ha proprio, oppure non ritiene che lo studio, la scuola possono avere un valore, possono essere importanti per il suo futuro. L'integrazione di altri minori liberi per i nostri ragazzi è importante perché loro vogliono confrontarsi con i pari età, perché hanno adulti a volte ci vedono o troppo rigidi o che non possiamo trasmettere magari, non lo so, valori che loro appunto vanno ricercando dai loro pari età. Ci sono miliardi di possibilità, di opportunità che si possono fare, attraverso quelle poter ricominciare e riavviare un normale percorso di crescita e quindi educare in tal senso. Ad accompagnare i ragazzi nella sala pulifunzionale dell'Istituto, i docenti di diritto Nino Provenzano e Vincenza Calà, promotori del progetto Il diritto penale insegnato ai ragazzi. L'idea è nata dalla voglia di far conoscere ai ragazzi anche una realtà quotidiana, diciamo, che è fuori dalle mura scolastiche. Hanno preparato anche dei quadretti con delle frasi di Jim Morrison, proprio che, come dire, invogliano questi ragazzi al valore della libertà, alla voglia di riprendersi. E una di queste frasi proprio che a me è piaciuta particolarmente è stata non è forte chi non cade, ma chi cadendo ha la forza di rialzarsi. Recita al pianistico del gelese Alberto Ferro al fine di sostenere il progetto Music Lab per la scuola. Appuntamento previsto per domenica 17 aprile prossimo alle 19.30 al Teatro Comunale Eschilo su iniziativa dell'Associazione Perfetta Letizia, presieduta da Giuseppe Failla. Il costo del biglietto è di 10 euro. Il botteghino resterà aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20.00 per informazioni 0933911892. Fine c'è l'informazione cinematografica e la macchinazione che ha ucciso Pasolini. Il film in programmazione al Cine Teatro Antidoto di Macchitella a Gela. Sono tre gli orari di rotazione della pellicola, ve li ricordiamo, 17.30, 19.30 e 21.30. Sabato 9 aprile al Teatro Comunale Eschilo alle 17.30 alle 21.30. Roberto Ciufoli, Gaia De Laurentiis e Diego Ruiz porteranno in scena Ti amo o qualcosa del genere. Il botteghino rimarrà aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20.00. C'è anche il numero di telefono al quale si può chiamare 0933911892. E' tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito fin qui. Vi ricordiamo che servizi, notizie e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it. Vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato. Arrivederci. Grazie a tutti.